salve a tutti amici sono sempre io emiliano babilonia in questi giorni degli inizi dell'estate ovviamente parlo del mese di agosto hanno fatto in modo che le armi ad energie dirette sparate all'interno del mio cervello venissero amplificate attraverso amplificatori neurali che creavano gravissime patologie derivanti i disturbi del caldo ovviamente le frequenze a microonde sparate sul nostro corpo dal satellite spia che sta al nord italia che collega ovviamente il cordone celebrale per modificare i nostri parametri fisiologici attraverso esperimenti militari segreti effettuati da servizi segreti mercenari che operano attraverso l'occulto delle forze dell'ordine italiane ovviamente utilizzano delle tecnologie che creano molte anomalie fisiche e psicologiche e spiando tutti i reparti operativi investigativi dell'arma di carabinieri polizia e finanza da quello che loro mi hanno detto in comunicazione dell'epatica nessuno si può azzardare a fare indagini su queste persone come potete vedere come ho iniziato la diretta hanno incominciato a modificare determinati parametri e le alterazioni delle frequenze dovute alla manipolazione del ragionamento del foglio che sto leggendo e che cercano di farmi sbagliare in continuazione le parole le frasi e le righe che susseguono il dialogo che ho voluto delucitare a voi che mi seguite a voi amici a voi persone care o cavi umane o vittime del controllo neurale fanno sì che venga manipolato in continuazione hanno bloccato i miei canali di facebook adesso addirittura i tre canali separati con tre nomi differenziati sono stati tutte e tre bloccati lo stesso identico giorno e mi chiedono i documenti a forza perché ovviamente questi operano attraverso i canali della della alta tecnologia i canali delle manipolazioni celebrati i canali degli esperimenti occulti e dello spionaggio le più alte cariche dello stato le persone più importanti del territorio nazionale italiano avete visto che cosa è successo levano i parametri celebrati delle torture le manipolazioni e si riattenuano tutte quante le frequenze boh stanno riaumentando un'altra volta vedi l'elettroencefalografo fa vedere perfettamente come funziona l'alta tecnologia e ovviamente questo sistema che crea l'interazione diretta all'interno dei parametri del cervello fa sì che alcune frequenze vengano camuffate in determinate circostanze ovviamente le mie circostanze sono quando vado a portare le denunce in procura o quando vado nei commissariati o quando vado nelle caserme per denunciare ciò che sta accadendo ciò che sto subendo ma ultimamente ho notato come se c'è una sorta di manipolazione anche delle forze dell'ordine che cambiano totalmente umore cambiano totalmente la personalità e diventano aggressive e minacciose verso i miei riguardi verso i miei confronti io dico guardate che io non sono il criminale io sono la vittima che subisce questi trattamenti disumani attraverso le alte tecnologie attraverso le frequenze delle armi ad energie dirette mentre sto parlando vedete che si stanno modificando i parametri delle frequenze dell'elettroencefalografo come gli avevo detto da tanti anni compriamo un elettroencefalografo e facciamo le analisi dell'elettroencefalografo in tempo reale sto costruendo la gabbia di fara dai perché ho avuto la possibilità diciamo di una donazione che molte persone stanno aiutando la mia ricerca e stanno aiutando anche che ne so donando attrezzature mi serve una telecamera per fare delle determinate analisi e magari qualcuno ce l'ha e ce la regala ce la dona oppure l'altro giorno mi serviva la rete per fare per creare la gabbia di faraday e mi hanno dato la rete per la gabbia di faraday questo vuol dire creare un gruppo di ricerca questo vuol dire creare un gruppo che si unisce insieme a analizzare a capire le frequenze i disturbi molte vittime del controllo neurale pensano che se loro stanno dentro casa rinchiusi o non fanno denunce o non vanno a dichiarare quello che subiscono che non verranno attaccati con questi sistemi oppure che verranno scollegati da quello che ho capito le cavie umane sono terminali e non vengono scollegate attraverso il sistema una volta creata la mappatura celebrale immettono nel sistema le nostre frequenze fisiologiche e noi non abbiamo più determinati disturbi e diventiamo totalmente dei zombie sotto narcolessia sotto ipnosi e sotto frequenze dei manchurian candidate manovrano e pilotano i nostri ragionamenti le nostre deduzioni celebrali le nostre frequenze della paura del desiderio della dipendenza pensate se 20 milioni di persone in italia vengono sottoposte a questo trattamento e incitano alla totale dipendenza dipendenza la droga dipendenza grattettinci dipendenza al superenalotto dipendenza a giocare le schettine di calcio e tanto altro a giocare alle macchinette all'interno dei bar e tanto altro all'interno delle sale giochi e sale slot chi guadagnerebbe tutto questo miliardi di euro le società occulte dei massoni nazionali italiani coperti dal braccio armato degli illuminati che operano con le armi ad energie dirette per lo spionaggio sulle persone che vogliono salvare le nazioni da questi terroristi e ovviamente tutto viene occultato anche attraverso le parti operativi investigativi che utilizzano le tecnologie di intercettazione ambientale ma quando portano queste intercettazioni in qualche posto di comando qualcuno dall'alto dice bloccate tutto e noi ridiventiamo le solite cave umane le solite vittime del controllo neurale i soliti manipolati cerebrali allora in questo momento siccome sta avvenendo il cambio del turno quello delle ore 14 si stanno modificando parecchi parametri guardate i parametri della frequenza gamma e della frequenza beta come stanno riscendendo allo stato della normalità perché perché a noi ci alternano le minate frequenze guardate adesso ho detto una frase guardate che è successo le frequenze grezze del cervello hanno incominciato ad interagire con i parametri delle frequenze alternate della corrente elettrica che viene riconvogliata attraverso le particelle a fotoni o le particelle di luce o i puntamenti laser a scansione sintetica olografici che sparano all'interno della nostra pineale il giorno che c'è stato in italia il totale blackout cioè la seconda nazione al mondo che ha avuto il totale blackout di corrente io non avevo più patologie tossicodipendenti non erano più tossicodipendenti le persone malate di mente con esaurimento nervoso non avevano più disturbi questo vi deve far riflettere come il sistema manipola interagisce crea la narcolessia e l'ipnosi temporanea e nessuno si accorge di niente dissero il nuovo ordine mondiale ordina il controllo neurale pensate queste frequenze date a terroristi che cosa potrebbero fare pensate queste frequenze date a organizzazioni criminali che operano nell'investimento di giochi diciamo d'azzardo che poi diventano attraverso l'occulto dello stato giochi legali e incitano queste persone a fare tutto quello che loro vogliono io emiliano babilonia sono stato fermato il 10 febbraio del 2001 le carabinieri dopo due giorni ho avuto ustioni in faccia bruciori nel cervello mal di testa fortissimi perdita della capacità di intendere e di volere perdita della memoria appannamento della vista bruciori improvvisi e continui confitte fortissime nei polmoni nel cuore nello stomaco braccia che mi formicolavano con amplificazioni di contrazioni a scariche elettriche in elettroencefalografo trascranico che ricreava le frequenze dei muscoli le frequenze delle contrazioni delle braccia e delle gambe di continuo tentavano di bloccarmi il respiro di bloccarmi la vista di bloccarmi il ragionamento mi facevano svenire per strada in continuazione con attacchi di blocchi totali cerebrali attraverso elettroshock continui con sul riscaldamento impulsi in joule elevatissime attraverso le frequenze a pressione cerebrali molte persone mi chiamano e mi dicono ah io è una settimana che sento il sibilo nell'orecchio non potete dire di essere collegati all'unità centrale e che siete sottoposti ad esperimenti prima consiglio a tutti di fare delle analisi di fare un attac una risonanza magnetica e di vedere se realmente questi disturbi persistono per tanto tempo no un giorno due ma si parla di mesi e di anni e se queste patologie incominciano a interagire con il vostro cervello con il vostro ragionamento attraverso dei disturbi visivi uditivi cognitivi di ragionamento diretto indiretto uditivo sonoro celebrale intellettivo e tanto altro è ovviamente il cambio del turno sta per essere concluso perché le frequenze le stanno manipolando in continuazione perché mi stanno facendo la mappatura celebrale in fase di rilassamento primario il rilassamento primario sarebbe quattro fasi al giorno che parte la prima fase alle 7 di mattina e dura un quarto d'ora alle ore 14 e dura un quarto d'ora alle ore 21 e dura un quarto d'ora alle ore 02 in queste fasi per un quarto d'ora stabiliscono e attenuano e alterano i programmi che verranno immessi per il turno successivo se durante il cambio del turno mettono la frequenza della serenità del sorriso in quel quarto d'ora io per il turno successivo che dura 7 ore 7 7 14 di giorno e 5 5 10 la sera e compiono un programma totale di quattro cambi del turno che prendono le 24 ore giornaliere ovviamente queste sperimentazioni con l'audi vengono assimilate attraverso le patologie che creano questi sistemi attraverso le torture i lavaggi del cervello le frequenze immesse nei centi nervosi i disturbi visivi celebrali sogni che diventano incubi in alta risoluzione in tempo reale mi volevano far credere che ero un addotto ma io avevo capito subito che era una patologia che volevano creare per distogliere il reale esperimento che stavano facendo nel mio cervello hanno voluto far credere che ero diventato un pazzo uno schizofrenico un malato di mente un esaurito ma queste sono tutte le tattiche che utilizzano proprio per destabilizzare la nostra credibilità relativa alle anomalie del sistema che viene collaudato su noi cavi umane ci fanno credere che sono i nostri parenti che ci vogliono far del male i nostri amici le persone più care non è vero noi veniamo sottoposti a manipolazione deduttiva intuitiva di ragionamento diretti all'interno dei centi nervosi del cervello attraverso un collegamento satellitare in arma ad energia diretta transgranica un saluto a mesci da emiliano babilonia scrivetemi e denunciate tutto e fate testimonianze sulla mia radio web grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti